Quinto capitolo. Costeggiando grossi furgoni sulla riva Sir John Rogerson, Mr. Bloom camminò posatamente oltre Wine Mill Lane, la ditta Lisk, produttrice di olio di semi, l'ufficio delle poste telegrafi. Avrei potuto dare quell'indirizzo anche e oltre la casa al diriposo dei marinai. Si staccò dai rumori mattutini del lungo fiume e imboccò Lime Street. Presso le case popolari di Brady, un garzone di conceria indugiava, con la secchia dei cascami al braccio, fumando una cicca masticata. Una bambinetta con segni di un eczema sulla fronte lo occhieggiava, reggendo incurante il suo malconcio cerchione di botte. Dirgli che se fuma non crescerà, ma fumi pure. La sua vita non è poi un letto di rose. Aspettare fuori dalle osterie per riportare papà a casa. Torna a casa da mamma a papà. Ora morta, non ci sarà molta gente. Attraversò Townsend Street. Oltrepassò il volto accigliato della cappella di Bethel. El, sì, casa di Aleph Beth. E oltre Nicol, l'impresario di pompe funebri. Alle undici, eh, c'è tempo. Scommetto che Cornica, là, si è accaparrato quest'affare per Onilla. Canta con gli occhi chiusi, me lenso. Ho incontrato giù nel parco una ragazza, là nel rezzo, che sollazzo. Pizzardone, ghiade allora il suo nome e l'indirizzo con il mio, trallallero trallallà. Certo se l'è accaparrato. Seppellirlo a buon mercato in un come si chiama, con il mio trallallero trallallero trallallà. In Westland Row si fermò davanti alla vetrina della Belfast and Oriental Tea Company e lesse l'etichetta dei pacchi di stagnola. Miscela scelta, qualità sopraffina, miscela per famiglie. Piuttosto caldo, tè. Bisogna che ne prenda un po' da Tom Kernan. Non potrei chiederglielo al funerale, però. Mentre i suoi occhi seguitavano a leggere blandamente, si tolse quieto il cappello, inalando l'odore di brillantina, e si passò la mano con lenta grazia sulla fronte e sui capelli. Mattinata molto calda, sotto le palpebre abbassate, i suoi occhi trovarono il fiocchetto sulla banda interna di cuoio del migliore dei cap, proprio là. La destra scese nel cucuzzolo del cappello. Le dita trovarono subito un cartoncino infilato dietro la banda e lo trasferirono al taschino del panciotto. Che caldo! Fece scorrere la destra ancora una volta sulla fronte e sui capelli. Poi si rimise il cappello, con un senso risollievo, e lesse ancora, più lentamente, miscela scelta, le più fini marche di Ceylon, l'estremo oriente. Bel posticino deve essere, giardino del mondo, grandi foglie pigre da galleggiarci sopra, cactus, prati fioriti, gliane serpentine le chiamano. Chissà se è proprio così. Quei singalesi che ozziano al sole, indolce far niente, non alzano un dito tutto il giorno, dormono sei mesi su dodici, troppo caldo per arrabbiarsi. Influsso del clima, letargo, fiori dell'ozio, si nutrono d'aria, azoti, serra all'orto botanico, sensitive, ninfee, petali troppo stanchi per... Mal della nona nell'aria, camminare su petali di rosa, figurati un po' a mangiare trippa e zampetto di manzo. Dov'era quel tale che ho visto in fotografia da qualche parte? Ah sì, nel mar morto, galleggiava sulla schiena, leggeva un libro con l'ombrello aperto. Neanche a volere si affonderebbe. Così densa di sale. Perché il peso dell'acqua, no, il peso di un corpo nell'acqua, è uguale al peso del... O è il volume che è uguale al peso. È una legge del genere, o giù di lì. Vance al ginnasio faceva schioccare le dita insegnando. Il corso di studi. Corso di studi con lo schiocco. Ma cos'è poi il peso, quando si dice il peso? 32 piedi al secondo, al secondo, legge di gravità, al secondo, al secondo. Cadono tutti al suolo, la terra. È la forza di gravità della terra. Ecco che cos'è il peso. Si voltò e attraversò svagato la strada, come camminava quella con le sue salsicce, pressa poco così. Camminando tirò fuori dalla tasca laterale il prima impiegato, lo aprì, lo arrotolò a mo' di bacchetta e cominciò a batterlo sui pantaloni a ogni passo svagato. Aria di non curanza, giusto una capatina. Al secondo, al secondo. Al secondo per ogni secondo, questo vuol dire. Dal marciapiede lanciò uno sguardo scrutatori attraverso la porta dell'ufficio postale. Ultima levata, posta qui. Nessuno, entriamo. Porse il cartoncino attraverso la grata d'ottone. «Ci sono lettere per me?» chiese. Mentre la ragazza cercava nella casella, egli guardava il manifesto per il reclutamento, con soldati di tutte le armi imparata, e teneva la punta della sua bacchetta contro le narici, odorando la carta di giornale stampata di fresco. Nessuna risposta, probabilmente. Spinto troppo in là l'ultima volta. La ragazza gli rese attraverso l'inferriata il suo biglietto, con una lettera. La ringraziò e dette una rapida occhiata alla busta d'attilo scritta. «Henry Flower, ESC». Fermo posta. Ufficio postale Westland Roo, città. Comunque aveva risposto. Si infilò in tasca il biglietto e la lettera, passando in rassegna di nuovo i soldati in parata. «Dov'è il reggimento del vecchio Twidi?» «Soldato smesso». «Ecco, cappello di pelo d'orso e pennacchietto». «No, è un granatiere. Polsini a punta». «Ci siamo. Royal Dublin Fusiless». «Juubbe rosse. Troppo vistoso. Deve essere per questo che le donne gli vanno sempre dietro. L'uniforme. È la strada più facile a ruolarsi e fare gli esercizi in piazza ad armi. Lettera di Moot Gone perché di sera li levino da O'Connell Street. Una vergogna per la nostra capitale d'Irlanda». Il giornale di Griffith batte ora lo stesso tasto. «Un esercito marcio di malattie venere. Impero britannico o impero briaconico? Ne cotti ne crudi, sembrano come ipnotizzati. Attenti, segnare il passo. Sinist, dest? No. Uè, reggimento del re. Mai visto vestito da pompiere o da vigile urbano? Da massone sì. Uscì dall'ufficio e voltò a destra. Parlare, come se servisse a aggiustare qualcosa. Infilò la mano nella tasca e l'indice si insinuò nella busta aprendola a scatti. Le donne ci fanno molto caso, non credo. Le dita tirarono fuori la lettera e fecero una palla della busta in tasca. Qualcosa attaccato con uno spillo, forse una foto. Capelli? No. «Meccoi! Liberarsene al più presto. Mi porterebbe fuori di strada. Tremendo essere in compagnia quando si...» «Salve, Bloom! Dove va di bello?» «Salve, Meccoi!» Innesso un posto ripreciso. «Come va la salute?» «Benissimo! E lei?» «Si tira a campare», rispose Meccoi. Gli occhi puntati sulla cravatta nera e il vestito anche nero, chiese a voce bassa e rispettosa. «C'è qualcosa? Nessun guaio, spero. Vedo che...» «No, no!» disse Mr. Bloom. «Il povero Dignam, sa. C'è il funerale oggi.» «Già, poveretto. Proprio così. A che ora?» «Una foto, no. Forse un distintivo. Le... le undici!» rispose Mr. Bloom. «Voglio vedere se mi riesce di farci una scappata», disse Meccoi. «Le undici, eh? Me l'hanno detto solo ieri sera.» «Chi è stato?» «Hola, Anne. Lo conosce? Opilo Zoppino?» «Sì, sì.» Mr. Bloom guardava dall'altra parte della strada, la carrozza ferma alla porta del Grosvener. Il facchino issò la valigia sul poggiapiedi della vettura. Lei stava ferma, aspettava, mentre l'uomo, marito, fratello, le somiglia. Cercava gli spiccioli in tasca, sopravvito elegante, con quel bavero arrotondato. Pesante per una giornata come oggi, sembra una stoffa da coperte. Posa non curante di lei, ferma lì con le mani in quelle tasche applique. È come quell'altezzosa creatura alla partita di Polo. Le donne tengono alla classe finché non si tocca il punto. L'abito non fa il monaco. «Contegnosa, ma sta per cedere. L'onorevole signora è brutto, è un uomo onorevole. Possederla una volta le toglie l'amido.» «Ero con Bob Doran e in uno dei suoi periodi di orge, e quell'altro, come si chiama, Bantam Lions. Là da Conway eravamo.» «Doran Lions da Conway.» La donna portò ai capelli una mano inguantata. Arrivò Hoppi a bere un goccetto, tirando indietro la testa e guardando in distanza. Di sotto le ciglia abbassate vide la lucida pelle di Dino splendere nel sole, treccioline ricamate. «Ci vedo bene, oggi forse è quest'aria umida a lunga la vista. Parlando del più e del meno, mano da signora, da che parte salirà?» «E quello, disse, triste questa del nostro povero amico Paddy.» «Quale Paddy, dissi, quel poverino di Paddy Dignam», disse lui. «Partenza per la campagna? Brodstone, probabilmente, stivaletti marroni con le stringhe pensoloni. Un bel piedino.» «Ma chi armeggia con quegli spiccioli? S'accorge che guardo, sempre con l'occhio a qualcun altro, ottima riserva, due cordi all'arco.» «Perché?» dissi. «Che gli è successo?» dissi. «Superba, ricca, calce di seta.» «Sì», disse Mr. Bloom. Si scostò un poco dalla testa parlante di McCoy. «Salirà tra un minuto.» «Che gli è successo?» disse. «È morto!» disse. E parola mia si riempì il bicchiere. «Paddy Dignam!» dissi. Non ci potevo credere quando l'ho sentito. Stavo con lui non più tardi di venerdì scorso. O giovedì, mi pare, all'acce. «Sì!» disse. «Se n'è andato. È morto lunedì, poveretto.» «Guarda, guarda, barbaglio di seta, ricche calze bianche.» «Guarda!» Un pesante tramvai scampanellandosi frappose. Perduta. Al diavolo il tuo naso rincagnato fragoroso. Si sente tagliato fuori. Paradiso e la peri. Succede sempre così. Momento buono. Ragazza in quell'androne di Eustace Street lunedì, mi pare, si aggiustava la giarrettiera. L'amica faceva da paravento alla mostra del «Esprit de Corp!» «E allora che stai guardando?» «Sì, sì!» disse Mr. Bloom dopo un sospiro smorzato. «Un altro che se n'è andato?» «Uno dei migliori!» disse McCoy. Il tram passò. Si dirigevano verso il ponte della circonvallazione, la ricca mano inguantata sulla maniglia d'acciaio. «Brilla, brilla!» Bagliore di merletti del suo cappello al sole. «Brilla, brilla!» «La moglie bene, spero!» disse la voce di McCoy con un tono diverso. «Oh, sì!» disse Mr. Bloom. «A meraviglia! Grazie!» Srotolò la bacchetta del giornale oziosamente e oziosamente lesse. «Una casa cos'è? Se la pasta di carne e plum tree non c'è, incompleta. Quando c'è, è una casa da re!» «La mia signora ha appena avuto una scrittura. L'affare non è ancora concluso, però. Ancora la storia delle valigie. Niente di male, comunque. Non ci casco, grazie!» Mr. Bloom volse gli occhi dalle grandi palpebre con placida amabilità. «Anche mia moglie», disse, «dovrà cantare a una riunione molto chic all'Alstahall di Belfast, il 25.» «Ah sì», disse McCoy, «ne ho piacere, vecchio mio! Chi l'organizza?» «Mrs. Marion Bloom». «Non è ancora alzata. La regina in camera mangia pane e...» «Niente libri!» «Carte d'onori sporche lungo la coscia in file di sette!» «Donna bruna e uomo biondo!» «Cartopalla di pelo nero, striscia strappata di busta!» «D'amor, la dolce, vecchia, canzone!» «Viene d'amor la dolce...» «Una specie di tournée, capisce?» disse Mr. Bloom sopra pensiero. «Dolce, canzone!» «C'è un comitato organizzatore con partecipazione alle spese e ai profitti!» McCoy annuì, tirandosi i baffetti irsuti. «Bene,» disse. «Questa è una bella notizia!» Fece l'atto di andarsene. «Allora, sono contento d'averla trovata sempre in gamba,» disse. «Ci si vedrà da qualche parte!» «Sì,» disse Mr. Bloom. «Senta un po',» disse McCoy. «Le spiacerebbe lasciare il mio nome al funerale?» «Mi piacerebbe venirci, ma può anche dar sì che non ce la faccia. C'è un caso di annegamento a Sendikov che può capitare da un momento all'altro e io e il medico legale si dovrà andare laggiù se salta fuori il cadavere. Lei ci infili dentro il mio nome se non arrivo. Le spiace?» «Senz'altro», disse Mr. Bloom sulle mosse di andarsene. «Stia pure sicuro!» «Benissimo», disse McCoy raggiante. «Grazie, vecchio mio. Verrei, se appena appena potessi. Bene, in gamba. Basterà mettere S.P. McCoy». «Sarà fatto», rispose fermamente Mr. Bloom. «Questa volta non mi ha preso che dormivo. Mano pronta, punto debole. Mi piacerebbe quel pezzo, per quella valigia ci vado matto. Cuoio, angoli rinforzati, orli ribattuti, chiusura di sicurezza doppia. Bob Cully gli prestò la sua per il concerto della regata di Wicklow l'anno scorso e non ne ha più sentito l'odore da quel dì». Mr. Bloom, passeggiando verso Brunswick Street, sorrideva. «La mia signora ha appena avuto una... stridulo soprano lentigginoso, naso da taccagna. Non c'è malaccio nel suo genere per una ballatella. Ma non c'è nerbo. Io e te, sai, nella stessa barca. Lisciante. Ti dà i nervi, ecco. Ma non la sente lui la differenza. Mi pare che abbia tendenza in quel senso. Per me è come un contropelo, per così dire». «Lo sapevo che Belfast gli avrebbe fatto colpo. Spero che il vaiolo non peggiori lassù. Mettiamo che lei non si voglia far vaccinare un'altra volta. Sua moglie e mia moglie». «Che mi stia dietro?» Mr. Bloom si fermò all'angolo, gli occhi vaganti sui cartelloni multicolori. «Gazzosa di Cantrell e Cochrane. Aromatica. Liquidazione estiva di Clary». «No, tira dritto». «Hola, Leah stasera». «Mrs. Benman Palmer, mi piacerebbe rivederla un'altra volta in quel lavoro. Ha fatto amleto ieri sera, in veste di maschio. Forse era una donna, perché Ophelia si è suicidata. Povero papà, come parlava volentieri di Kate Bateman in quella parte. Fece una coda di un pomeriggio alla Delphi a Londra per entrare. Fu l'anno prima che io nascessi, 65, e la ristori a Vienna. Qual è poi il nome giusto? «Sì, è di Mosenthal. Forse è Rachele? No, quella scena. Lui ne parlava sempre, dove il vecchio Abramo Ceco riconosce la voce e gli mette le mani sulla faccia. La voce di Nathan, la voce del figlio. Sento la voce di Nathan che lasciò morire il padre di dolore e di infelicità tra le mie braccia, che lasciò la casa del padre e lasciò il dio del padre. Ogni parola è così profonda, Leopold. Povero papà, povero uomo. Sono contento che non entrai nella stanza a guardarlo in volto. Quel giorno. Ahimè, ahimè. Ma forse è stato meglio per lui. Mr. Bloom voltò all'angolo e passò accanto al posteggio delle ronze ciondolanti. È inutile pensarci più. È l'ora della biada. Vorrei non aver incontrato quel McCoy. Si avvicinò e udì un biascicar di avena dorata, denti dolcemente richiusi. I loro occhi tondi di cerbiatti lo guardavano mentre passava, di tra il dolce aroma avenoso del piscio di cavallo. Il loro e il dorado, poveri idioti, che ne sanno e che gli importa di tutto e di tutti, con quei nasoni infilati nel sacco della biada, troppo occupati per parlare. Eppure hanno da mangiare e da dormire, castrati per giunta. Un mozzone di gutta perca nera che pende mencio tra le gambe. E chi ti dice che non siano contenti lo stesso a quel modo? Sembrano delle brave povere bestie. Eppure quel loro nitrito può essere parecchio fastidioso. Tirò fuori la lettera di tasca e la infilò dentro il giornale che portava. Potrei imbattermi proprio in lei qui. Il vicolo è più sicuro. Oltrepassò il rifugio del vetturino. Curiosa la vita di questi fiaccherai alla deriva. Con tutti i tempi, in tutti i posti, a ore o finché dura, senza una loro volontà. Voglio e non. Vorrei dargli una sigaretta qualche volta. Socevoli. Verciano qualche sillaba al volo nel passare. Canticchiò La ci darem la mano La 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 Voltò in Cumberland Street e avanzando di qualche passo si fermò al muro della stazione sottovento. Nessuno. La segheria Mead. Travi accatastate, rovine e caseggiati. Con passocauto attraversò un gioco di campana con la sua piastrella dimenticata. E anche un peccatore. Vicino alla segheria, un bambino accoccolato giocava a palline, solo. Tirava il pallino a colpi di dito. Un saggio soriano sfinge occhieggiante. Montava la guardia sul suo davanzale al caldo. Peccato di sturbarli. Ma ometto per non svegliarla si tagliò un pezzo del mantello. Aprila. Una volta giocavo a palline quando andavo a scuola da quella vecchia. Le piaceva la reseda. La scuola della signora Ellis. E il signor aprì la lettera dentro il giornale. Un fiore. Mi pare che sia un un fiore giallo con i petali appiattiti. Allora non è irritata. Che dice? Caro Henry, ho avuto la tua ultima lettera e grazie tante. Mi dispiace che la mia ultima non ti sia piaciuta. Perché ci hai messo dentro i francobolli? Sono arrabbiatissima con te. Vorrei poterti punire. Ti ho chiamato ragazzaccio perché quell'altro mondo non mi piace. Dimmi per piacere cosa vuol dire veramente quella parola. Non sei finito felice a casa tua mio povero ragazzaccio. Se potessi fare qualcosa per te. Dimmi per piacere cosa pensi di me poverina. Penso spesso al bel nome che hai. Caro Henry, quando ci vediamo ti penso tanto spesso che non hai idea. Non mi sono mai sentita così attratta da un uomo come da te. Mi fa così male. Scrivimi per piacere una lunga lettera e dimmi ancora tante cose. Ricordati che se non mi accontenti ti punirò. Così ora sai quello che farò ragazzaccio che non sei altro se non mi scrivi. Che voglia matta o di vederti? Caro Henry, non mi dire di no altrimenti perdo la pazienza. Allora ti dirò tutto. E ora addio brutto cattivo ho un tale mal di testa oggi e scrivi al giro di posta alla tua ansiosa Marta P.S. Dimmi che profumo usa tua moglie lo voglio sapere XXXX Staccò gravemente il fiore dallo spillo che lo teneva puntato ne aspirò il quasi niente profumo e se lo mise nella tasca del cuore linguaggio dei fiori gli piace perché nessuno lo sente oppure un mazzolino avvelenato per levarselo di torno poi procedendo lentamente rilesse la lettera borbottando una parola qua e là arrabbiata tulipani con te caro uomo fiore punirò il tuo cactus se tu non accontenti la tua povera non ti scordar di me che voglia matta o di violette al caro rose quando presto anemoni ci vedremo ragazzaccio bella donna profumo di moglie Marta finito di leggere tutto levò la lettera di dentro il giornale e la rimise nella tasca esterna debole gioia gli schiuse le labbra cambiata da quando scrisse la prima volta chissà se la scritta da sé faceva l'offesa una ragazza di buona famiglia come me una persona onurata possiamo trovarci una domenica dopo il rosario grazie non fumo solite scaramucce amorose poi a rincorrersi dietro gli angoli peggio di una scenata con molli il sigaro fa l'effetto di un calmante narcotico spingiti un po' più avanti un'altra volta ragazzaccio punire paura delle parole ovvio brutale perché no ad ogni modo tentare non nuoce un passo alla volta tastando ancora la lettera nella tasca ne tirò via lo spillo spillo comune eh lo buttò via se l'è levato dai vestiti da qualche parte tenuti insieme a forza di spilli curioso quanti spilli hanno addosso non c'è rosa senza spine piatte voci i dublinesi gli berciavano in testa quelle due sgualtrine quella notte a cum allacciate sotto la pioggia mariuccia ha perduto lo spillo alle mutande non sapeva come fare per tenerlo su per tenerlo su tenerlo tenerle un tale mal di testa alle sue cose probabilmente o forse tutto il giorno a battere a macchina la tensione degli occhi fa mali ai nervi dello stomaco che profumo usa tua moglie come si spiega per tenerlo su Marta Maria ho visto quel quadro vattela pesca dove un maestro del buon tempo antico o un falso siede in casa loro e parla misterioso anche le due sgualtrine di cum ascolterebbero per tenerlo su gradevole sensore la sera basta con tutti questi giri soltanto induggiare là calmo crepuscolo che tutto il resto corra pure dimenticare raccontare dei posti dove sei stato usanze strane l'altra con l'orcio in testa portava la cena frutta uliva splendida acqua fresca dal pozzo diazzo come pietra come quel buco nel muro ad Ashtown portarsi un bicchierino di carta la prossima volta che vado alle corse al trotto ascolta con occhi grandi scuri morbidi raccontale ancora e ancora tutto poi un sospiro silenzio riposo lungo 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 passando sotto il ponte della ferrovia tirò fuori la busta la strappò alla svelta in tanti pezzettini e li gettò per la strada i pezzettini volarono via discesero nell'aria umida un bianco fluttuare poi tutti discesero Henry Flower allo stesso modo potresti strappare un assegno di cento sterline un semplice pezzetto di carta Lord Ivy una volta riscosse un assegno di sette cifre per un milione alla banca di Irlanda il che dimostra quanti quattrini si cavano dalla birra eppure l'altro fratello Lord Adilon deve cambiarsi la camicia quattro volte al giorno dicono pelle che genera pidocchi e altri parassiti un milione di sterline aspetta un momento due pensi la pinta quattro pensi il quartino otto pensi il gallone di birra no uno scellino e quattro pensi il gallone uno e quattro in venti quindici circa si esattamente quindici milioni di barili di birra che dico barili galloni comunque circa un milione di barili un treno in arrivo sferragliò pesantemente sulla sua testa un vagone dopo l'altro barili gli rintronavano in testa birra greve sciabordava e zangolava dentro le spine si aprirono e un'immane corrente opaca prese a colarne fuori fluendo unita serpeggiando tra i banchi di fango per tutta la piana pigro gorgo paludoso di liquido che trasportava i fiori ampifogliati della sua schiuma aveva raggiunto la porta posteriore di ogni santi entrando nel portico si levò il cappello si tolse il cartoncino di tasca e lo infilò dentro il marocchino interno del cappello al diavolo avrei potuto cercare di farmi dare da mccoy una tessera gratuita per mallinger stesso avviso sulla porta predica del reverendo john conmy s.j sul san pietro cleiva s.j e la missione africana preghiere per la conversione di gladstone fecero pure quando aveva quasi perso conoscenza i protestanti lo stesso convertito il dottor william j. wash di d alla vera religione salvare i milioni di anime della cina chissà come lo spiegano al cinesino pagano preferiscono un oncia doppio celestiali eresia smaccata per loro buddha il loro dio disteso su un fianco nel museo se la piglia con calma con la mano appoggiata sotto la guancia bastoncini aromatici e accesi non come lecce omo corona di spine e croce ottima idea san patrizio e il trifoglio bastoncelli da tavola conmi martin cunningham lo conosce ha un'aria distinta peccato che non mi sono lavorato lui per far entrare molli nel coro invece di quel padre falli che sembrava uno sciocco ma non lo era glielo insegnano oh non mi andrà mica in giro con gli occhiali blu colando sudore a battezzare i negri spero gli occhiali fanno colpo su di loro con l'uccichio bello vederli seduti in cerchio coi labbroni incantati ad ascoltare natura morta se la lappano come latte immagino il freddo il freddo odore di pietra consacrata lo richiamò salì i gradini consunti spinse la porta ed entrò piano dal retro qualcosa in corso qualche funzione collettiva peccato così poca gente bel posticino tranquillo per starci accanto a una ragazza chi è il mio prossimo insardellati là per ore al suono di musica lenta quella donna la messa di mezzanotte settimo cielo donne in ginocchio nei banchi con scapolari cremisi intorno al collo testa in giù un gruppo inginocchiato lungo la balaustra dell'altare il prete passava davanti a loro mormorando tenendo il coso in mano si fermava davanti a ognuna tirava fuori un'ostia ne scuoteva una goccia o due le tengono nell'acqua e gliela metteva per benino in bocca cappello e testa sprofondavano poi la successiva una vecchietta il prete si curvò per mettergliela in bocca seguitando a borbottare latino la successiva chiudi gli occhi e apri la bocca cosa? corpus corpo cadavere buona idea il latino per prima cosa l'imbambola un ospizio per i moribondi non sembra che la mastichino solo la ingoiano idea stramba mangiare pezzetti di cadavere per questo attecchisce fra i cannibali stette da parte a guardare le loro maschere cieche passare lì per la navata a una a una in cerca del loro posto si avvicinò a un banco e si sedette sull'orlo tenendo sulle ginocchia il cappello e il giornale queste pentole che ci tocca portare in testa dovremmo farci modellare i capelli sulla testa erano intorno a lui qua e là con le teste ancora curve nei loro scapolari cremisi aspettando che gli si sciogliesse nello stomaco qualcosa del genere dei mazot è quella specie di pane pane azimo guardale ora scommetto che le fa sentire felici lecca lecca proprio si lo chiamano pane degli angeli c'è dietro una grande trovata il sentimento che il regno di dio è dentro di voi prime comunioni abracadabra un soldino al pezzo poi si sentono tutti come una grande famiglia lo stesso a teatro tutti nella stessa barca si certo senza dubbio non così soli nella nostra confraternita poi uscirne un po' inuzzoliti dare la stura tutto sta nel crederci sul serio la cura di Lourdes acqua dell'ublio e l'apparizione di Nock statue che sanguinano vecchio addormentato vicino a quel confessionale perciò si sentiva russare fede cieca sicuri in braccio al regno tuo addormenta ogni dolore svegliarsi l'anno prossimo a quest'ora vide il prete riporre il callice bene in fondo e inginocchiarsi un istante davanti mostrando una grande suola di scarpa grigia di sotto quell'affare ricamato che aveva addosso e se perdesse la spila delle sue non saprebbe come fare cerchio di calvizia dietro lettere sulla schiena in ri no i h s molly mi disse una volta che glielo chiesi io ho sbagliato cioè no io ho sofferto e è quell'altra il nostro re inchiodato vediamoci una domenica dopo il rosario non mi dire di no compare con il velo e la borsa nera crepuscolo e la luce dietro di sé potrebbe anche essere qui con il nastro al collo e fare il resto lo stesso alla chitichella il loro carattere quell'imputato che depose contro gli altri invincibili era solito fare la cari si chiamava la comunione tutti i giorni proprio in questa chiesa peter cari si no pensavo a peter cleiva dennis cari figuratevi un po' moglie e sei bambini a casa e progettava quell'assassinio tutto il tempo quei baciapalle è proprio il nome che si meritano hanno sempre qualcosa di sfuggente e non sono neanche onesti uomini d'affari no lei non è qui il fiore no no a proposito ho strappato quella busta si sotto il ponte il prete sciacquava il calice poi getto via di scatto la feccia vino lo fa più aristocratico che se per esempio bevesse quel che la gente beve di solito birra di guinness o qualche bibita analcolica o la birretta amara irlandese di Wheatley o la gazzosa di Contrelle Cochrane aromatica non ne dà loro neanche un po' vino di rappresentanza solo l'altro magra consolazione più inganno ma giustissimo se no ci verrebbe un vecchio ubriacone dopo l'altro per sbaffare un goccetto stramba tutta l'atmosfera del giustissimo perfettamente giusto sì mister Bloom si voltò a guardare verso il coro non ci sarà musica peccato chissà chi c'è qui all'organo il vecchio Glyn lui sì che sapeva far cantare quello strumento il vibrato 50 sterline all'anno si diceva che prendesse in Gardena Street Molly era in forma con la voce quel giorno lo Stabat Mater di Rossini prima la predica di padre Bernard Vaughn Cristo o Pilato Cristo ma non fateci stare qui tutta la notte per dircelo musica volevano lo stropiccio dei piedi cessò si sarebbe sentito cadere uno spillo le dissi di mandare la voce verso quell'angolo potevo sentire la vibrazione nell'aria l'acuto la gente con gli occhi in su qui sesto omo cose splendide in quella vecchia musica sacra mercadante le sette ultime parole la dodicesima messa di Mozart il Gloria quei vecchi papi si appassionavano alla musica all'arte e alle statue e ai quadri di ogni specie Palestrina per esempio anche lui se la son passata bene finché durata e gli faceva bene anche salmodiare in chiesa ore canoniche poi a distillarli cuori Benedictin chartreuse verde però avere degli eunuchi nel loro coro era un po' grossa che tipo di voce è? doveva essere curioso sentirla dopo i loro bassi potenti con noissaire suppongo che non sentano più nulla dopo una specie di tranquillo niente preoccupazioni e ingrassano vero? ghiottoni a alte gambe lunghe chissà eunuco o mezzo di uscirne fuori vide il prete chinarsi in avanti e baciare l'altare e poi fare dietro fronte e benedire tutti i fedeli tutti si fecero il segno della croce e si alzarono mister Bloom si guardò intorno e poi si alzò guardando al di sopra dei cappelli alzati ci si alza il Vangelo naturalmente poi si rimisero tutti in ginocchio e lui si sedette di nuovo tranquillamente sul banco il prete scese dall'altare tenendo il coso a distanza da sé e lui e il chierico si risposero tra loro in latino poi il prete si inginocchiò e cominciò a leggere da una carta gloria o Dio nostro rifugio e nostra forza mister Bloom sporse la testa avanti per sentire le parole inglese buttagli un osso mi ricordo un po' da quanto non vai ammessa gloriosa vergine immacolata Giuseppe suo sposo Pietro e Paolo più interessante se si capisse di che si tratta meravigliosa organizzazione certo marcia come un orologio confessione tutti vogliono poi vi dirò tutto penitenze puniscimi per favore grande arma in mano a loro più che il medico o l'avvocato la donna muore dalla voglia di e io e voi avete e perché lei sbircia la fede nuziale per trovare una scusa i muri della galleria degli echi hanno orecchi il marito apprende con sorpresa il piccolo scherzo di Dominei Dio poi lei esce pentimento a fior di pelle graziosa vergogna prega un altare Ave Maria e Santa Maria fiori incenso candele che si struggono nasconde i suoi rossori l'esercito della salvezza imitazione smaccata prostituta rigenerata parlerà raduno come ho trovato il Signore devono essere gente con la testa sulle spalle quei signori di Roma dirigono tutto lo spettacolo e non rastrellano anche i quattrini e poi i lasciti al Pippi a sua assoluta discrezione vita natural durante messe per il riposo della mia anima da celebrarsi pubblicamente a porte aperte monasteri e conventi quel preti alla sbarra dei testimoni nel processo fermana non c'è modo di fargli abbassare la cresta aveva una risposta pronta per tutto libertà ed esaltazione di nostra Santa Madre Chiesa i dottori della Chiesa hanno fatto la carta topografica di tutta la teologia il prete pregava beato Michele Arcangelo difendici nell'ora del periglio si nostra salvaguardia contro la perfidia e le insidie del demonio che Dio lo raffreni lo preghiamo umilmente e tu principe del celeste esercito col potere di Dio ricaccia Satana all'inferno e con lui quegli altri spiriti maligni che vagano per il mondo per la rovina delle anime il prete e il chierico si alzarono e se ne andarono tutto finito le donne rimanevano ringraziamento meglio tagliare la corda fratello Ronza forse va in giro col piattino date il vostro contributo al precetto pasquale si alzò ola quei due bottoni del panciotto sono stati aperti tutto il tempo? alle donne piace non ve lo dicono mai ma noi scusi signorina c'è una solo una piuma oppure la gonna dietro l'apertura slacciata rivelazioni fugaci di luna si seccano se non si perché non me l'hai detto prima eppure piace di più in disordine fortuna che non era più a sud scesi abbottonandosi discretamente per la navata e uscì nella luce della porta principale si fermò un momento senza vedere presso la fredda acqua santiera di marmo nero mentre davanti e dietro a lui due fedeli tuffavano mani furtive nella bassa marea dell'acqua santa tram un furgone della tintoria prescott una vedova in gramaglie lo noto perché anch'io sono in lutto si coprì che ora abbiamo fatto? un quarto c'è tempo ancora meglio far fare quella lozione dov'è? ah sì l'ultima volta su Ine Lincoln Place i farmacisti si trasferiscono di rado quei loro vasi verde e oro sono troppo pesanti da rimuovere la farmacia Hamilton Long fondata nell'anno del diluvio universale vicino c'è il cimitero degli Ugonotti visitarlo una volta? si incamminò verso sud lungo Westland Row ma la ricetta è negli altri pantaloni oh mi sono anche dimenticato la chiave della porta seccatura questo funerale beh poveretto non è colpa sua quando è che l'ho fatta fare l'ultima volta aspetta cambiai una sovrana mi ricordo il primo del mese doveva essere o il due insomma può cercarlo nel registro delle ricette il farmacista volta una pagina dopo l'altra odore di sabbia e di seccume sembra che abbia cranio in carta pecorito e vecchio ricerca della pietra filosofale gli alchimisti le droghe ti invecchiano dopo averti eccitato poi letargo perché reazione una vita intera in una notte a poco a poco ti cambia il carattere vivere tutto il giorno tra erbe unguenti risinfettanti tutti i suoi vasi dall'abastro mortaio e pestello accu dist fol laur tevirid l'odore quasi ti guarisce come il campanello del dentista il dottor verga pensi un po' a curare se stesso elettuario o emulsione il primo che colsi un'erba per curarsi aveva un bel fegato semplici bisogna stare attenti ce n'è abbastanza qui da cloroformizzarti prova fa diventare rossa una cartina di tornasole azzurra cloroformio dose eccessiva di laudano sonniferi filtri amorosi sciroppo di papavero cattivo calmante per la tosse ostruisce i pori o il catarro veleni i soli rimedi rimedio dove meno te lo aspetti furba la natura circa quindici giorni fa signore sì disse mister bloom aspettava al banco inalando l'aroma acuto delle droghe l'odore secco e polveroso delle spugne e delle luffe un monte di tempo a raccontare i vostri dolori e malanni olio di mandorla dolce e tintura di benzoino disse mister bloom e poi acqua di fiori d'arancio certamente le rendeva la pelle delicata e bianca come la cera e cera bianca anche disse mette in risalto il nero dei suoi occhi mi guardava il lenzuolo tirato su fino agli occhi spagnola annusandosi mentre mi mettevo i gemelli ai polsini quelle ricette casalinghe spesso sono le migliori fragole per i denti ortiche e acqua piovana avena dicono stemperata nel latte nutre la pelle uno dei figli della vecchia regina il duca d'olbani vero aveva una pelle sola leopold si tre ne abbiamo noi porri verruche e pedicelli per peggiorare le cose ma anche tu vuoi un profumo che profumo usa tua po de spagne quell'acqua di fiori d'arancio è così fresca buon odore hanno questi saponi sapone al latte genuino ora di prendere un bagno qui all'angolo amam turco massaggio e il sudicio si insalsiccia nell'ombelico sarebbe meglio se lo facesse una ragazza anch'io credo che io sì io farla nel bagno ma che voglia strana acqua all'acqua unire l'utile al dilettevole peccato non c'è tempo per un massaggio ti senti fresco per tutto il giorno il funerale sarà piuttosto deprimente sì signore disse il farmacista faceva due e nove ha portato una bottiglia no disse mister bloom la prepari per piacere passerò più tardi e prendo una di queste saponette quanto vengono quattro pence signore mister bloom ne portò una alle narici dolce cera al limone prendo questo disse in tutto allora tre scellini e un penny sì signore disse il farmacista può pagare tutto insieme signore quando torna bene disse mister bloom uscì dalla bottega il giornale a bacchetta sotto l'ascella il sapone dalla fresca fascetta nella sinistra alla sua ascella la voce e la mano sinistra di bantam lion dissero olà bloom che c'è di bello è quello di oggi faccia vedere un minuto si è tagliato un'altra volta i baffi per giove labbro superiore lungo e freddo per sembrare giovane all'aria melensa più giovane di me le gialle dita delle unghie nere di bantam lions srotolarono la bacchetta ha bisogno di una lavatina anche levare la prima crosta buongiorno avete usato il sapone pierce forfora sulle spalle deve lubrificare la cotenna voglio vedere un po' di quel cavallo francese che corre oggi disse bantam lions dov'è quel fottuto spiegazzò le pagine piegate sporgendo il mento dal colletto alto in petigine colletto stretto perderai i capelli meglio lasciargli il giornale e piantarlo lo tenga pure disse mister bloom escott la coppa d'oro aspetti borbottò bantam lions momento maximum secondo stavo proprio per buttarlo via disse bloom bantam lions alzò a un tratto gli occhi e ghignò debolmente cosa disse la sua voce acuta dico che lo può tenere disse mister bloom stavo per buttarlo via in quel momento bantam lions esitò un istante ghignando poi rimise il giornale aperto fra le braccia di bloom lo rischio disse ecco grazie corse via verso l'angolo di conway va con dio mister bloom ripiegò i fogli in preciso rettangolo e ci mise in mezzo il sapone sorridendo labbra sciocche di quel tipo giocare alle corse è diventata una mania da un po' di tempo a questa parte fattorini che rubano per puntare sei pence lotteria per un grasso tacchino tenero il vostro pranzo di natale per tre pence jack fleming commette peculato per giocare e poi se la batte in america ora tiene un albergo non tornano mai indietro pignatte d'egitto si avviò allegramente verso la moschea dei bagni ricorda una moschea mattoni rossi minareti guarda oggi gare universitarie adocchiò il manifesto a ferro di cavallo sopra il cancello del parco del college ciclista piegato in due come un merluzzo in pentola pessima pubblicità se invece l'avessero fatto tondo come una ruota poi i raggi sport 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 e come mozzo in grande college qualcosa da attirare l'attenzione ecco omblaua davanti alla guardiola del portiere tenerselo buono potrei fare un giretto lì dentro come va mister omblaua come va signore tempo celestiale davvero se la vita fosse sempre così tempo da cricket sedere intorno sotto gli ombrelloni un gioco dopo l'altro eliminato non sanno giocare qui zero per sei porte eppure capitan calla rupe un vetro a una finestra del circolo di kilda street con un colpo destinato a segnare un punto la fiera di donny brook è più adatta quanti crani spaccavamo quando uscì meccarti nostro ondata di caldo non durerà tutto passa la corrente della vita quel che nella corrente della vita noi rincorriamo è a noi più caro di ogni altra cosa e ora un bel bagno mastello d'acqua pulita fresco smalto gentile tepida corrente ecco il mio corpo vedeva già il suo pallido corpo lungo disteso in essa nudo in un grembo di tepore oleato di liquesciente sapone aromatico dolcemente lambito dall'acqua vedeva il suo torso e le membra semi sommerse e sostenute dall'acqua lievemente galleggianti giallo limone l'ombelico bocciolo di carne e vedeva gli scuri riccioli arruffati del pube fluttuanti fluttuante chioma della corrente attorno al flosso padre di migliaia languido fiore fiottante grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti